Cognome? Pietro Paolo. Cognome? Piras. Sei di? Orani. Giochi da quanti anni nella squadra? Tre anni. In che ruolo? In porta e difesa. Ah, quindi ti alterna sia con i guanti che senza. E dove ti piace giocare di più? In porta. E come mai ti piace giocare in porta? Dicono che sia un po' un golo delle persone che sono un po' pazze, che ci vuole un po' di follia. Ma c'è qualche motivo particolare per cui i giochi in porta? Ascolta, quante reti hai preso, ti ricordi? E quanti gol hai fatto? Uno. Uno. E quando l'hai fatto quest'anno? Ora no, due anni fa. Ci sono dei compagni di scuola che giocano con te? Scusa, dei compagni di scuola? Eh? Ma come mai avete deciso tutti di scrivere la scuola a calcio? Chi vi ha convinto? Boh, ci è piaciuta la salute. E che cosa hai imparato tu a fare con la scuola a calcio? A fare molte cose. Tipo? Tirare meglio, fare passaggi più perfetti. Da punto di vista dell'educazione cosa hai imparato? Che è la cosa più importante del gioco di squadra. E che non ho... ci devo avere rispetto anche degli avversari. Ecco, allenarti ti costa sacrificio? No. Cosa significa per te giocare a calcio? Anche divertirmi. E pensi che sia difficile allenarsi e andare bene a scuola? Perché dicono che solitamente... No. Quindi pensi che studiare e giocare siano due cose fattibili. E invece in tutte le partite che hai fatto ti è capitato qualche volta di dire eh, non mi sono impegnato abbastanza. No. E il mister com'è? No, già è bravo. Ecco, ma se ti dovesse far scegliere, se ti dovesse dire da ora in avanti devi giocare o in porta o in difesa, tu pensi che sia difficile fare una scelta? No. Ma lui cosa ti ha detto qualche volta? Devi migliorare in qualche cosa. Te l'ha detto. C'è qualcosa in cui tu pensi che devi migliorare? Eh. No, ma in qualche esercizio, ad esempio? Eh, nel... nel tiro. Nel tiro. Ma di piatto, di collo? Come tirate? No, di collo. Di collo. Ascoltati, invece, per quanto riguarda la... diciamo, fuori dal campo, giochi anche... fuori dal... giochi a calcio anche fuori dal campo sportivo, con gli amici? Sì. E dove giocate? Nella vicinata. Non è pericoloso? No. Non passano le macchine? No. E il quarto avvolto. E quando giocate cosa usate come porta? Un muro. Un muro, eh. Con due... insomma, con delle scarpe, qualcosa del genere, delle pietre. E invece... ah, giochi con i videogiochi? Eh, già gioco. E quali sono i tuoi giochi preferiti? I giochi di calcio, FF08, FF09. E il tuo giocatore preferito quale? I Brahimovic. I Brahimovic. Quindi tipo l'Inter, presumo. E cosa... pensi che... perché è il più forte di tutti i Brahimovic, secondo te? Cosa sa fare meglio di tutti? Tirare. Tirare. Ma per essere un bravo atleta, secondo te, qual è la qualità più importante? Giocare con la scuola. Giocare con la scuola, quindi giocare per i compagni. Va bene. Noi ti ringraziamo. Bocca al lupo per il resto del campionato. Siamo sicuri che, insomma, che o in porta o in difesa diventerai anche tu un bravo giocatore. Ok, grazie. Ciao.